Una sorta di ultimatum, non c'è una data limite ben indicata, ma si potrebbe dire che l'estate possa essere il termine entro il quale il comune di Gubbio con il sindaco Filippo Stirati si attende di vedere lavori urgenti per la sistemazione del manto stradale della Piandassino, oppure in strada si andrà, ma non per viaggiare, piuttosto per protestare in un sit-in che dica all'ANAS che la situazione così non può continuare. Il sindaco Eugubino a seguito della missiva ricevuta lo scorso 11 giugno da ANAS, ente a cui compete la manutenzione della Piandassino, in cui si comunicava che i 2 milioni e mezzo di euro stanziati per lavori straordinari sull'asse viario, attesi in estate, saranno rinviati ai mesi successivi, non barcando tuttavia l'anno, a seguito di un contenzioso sull'aggiudicamento dell'appalto, ha ribadito le aspettative della comunità locale in merito alla Piandassino, specie nel tratto tra Gubbio e Branca. Oggi, ha detto il primo cittadino, è in alcune parti impercorribile e pericolosa, attendere la fine anno è impossibile, serve almeno una soluzione tampone immediata. Ho percepito e sono stato informato anche delle problematiche burocratiche amministrative, dei contenziosi che ci sono in essere per l'affidamento di lavori. L'ANAS ha la responsabilità della 219, così come dalla contessa, e ha previsto investimenti dell'ordine di circa 2 milioni di euro per la variante, per gli interventi di manutenzione, e di circa 1 milione 350 mila euro per la contessa. Però la tempistica veramente è un po' desolante, nel senso che noi ci ritroviamo a fronte di segnalazioni reiterate di cittadini che lamentano lo stato di forte ammaluramento, soprattutto del tratto che da Gubbio va verso Branca, e quindi dei rischi collegati, che naturalmente poi spesso si sommano anche all'uso eccessivo della velocità, a un impiego improprio, scorretto, a un mancato rispetto del codice della strada, per carità, mettiamoci sul conto anche questo, però è evidente che ormai noi non possiamo più attendere. Quanto meno è necessario che immediatamente si intervenga per eliminare le situazioni più precarie, i tratti veramente disastrati e naturalmente al tempo stesso per avere questa azione di straordinaria manutenzione che noi riteniamo altrettanto importante. Il messaggio che voglio dare ai cittadini è che noi costantemente monitoriamo la situazione e stiamo col fiato sul collo ad ANAS, che però ha dei percorsi, degli iter veramente complessi, che si inquadrano anche nelle procedure nazionali e che costantemente ci dimostrano come andare a cantiere in questo Paese è diventato veramente il problema dei problemi, tant'è che si parla non a caso di sblocca cantieri e speriamo che questi cantieri prima o poi vengano sbloccati perché è un problema nel caso della viabilità di salvaguardia della sicurezza dei cittadini, ma direi che è anche un fatto economico per il Paese. Non di meno conto la questione della statale contesta che con la chiusura ai mezzi pesanti del viadotto del Puleto sulla E45 è di fatto divenuta l'arteria principale di collegamento per questi veicoli tra Umbria e Marche. Anche qui ANAS ha stanziato in due tranche, 900 mila euro l'una a cui si aggiungono 450 mila euro per l'altra, per la riqualificazione di alcuni tratti e piazzole, ma ancora il cantiere tarda a vedersi. Pare che, no, almeno è stato annunciato che nel giro di qualche settimana dovrebbe riaprire tutto il traffico versante E45, quindi anche la zona che ha subito delle limitazioni per i noti problemi. Questo sicuramente ci potrebbe alleggerire un po', però ecco, anche questa riapertura speriamo che avvenga in tempi accettabili perché è evidente che trascorrere l'estate in questa situazione, con questa forte pressione di traffico e con questo spostamento ulteriore del traffico pesante sul nostro territorio, è chiaro che ci mette in condizioni di grave criticità. Potremmo scendere in strada per una protesta laddove il suo appello fosse non ascoltato? Io non lo voglio escludere, insomma, perché capisco che i cittadini, gli automobilisti hanno sacrosante ragioni per protestare e io sono dalla loro parte, cioè non mi considero una controparte, tutt'altro perché voglio dire, comprendo perfettamente e vorrei che le risposte fossero adeguate e tempestive. Grazie a tutti!